ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come anna tatangelo la meravigliosa artista di sora senza filtri sul suo celebre ex rivelazioni intime sulla vita di coppia nonostante non stiano più insieme da svariati anni e si siano rifatti una vita dal punto di vista sentimentale fa ancora rumore la fine della loro storia d'amore del resto sono due artisti molto amati e apprezzati dagli italiani di ogni età quando si innamorarono e resero noto al mondo intero il loro amore lei era poco più che maggiorenne alle prime armi nel vasto mondo delle sette note lui invece era già una star ed era sposato con tanto di prole pian piano di due dimostrarono di voler fare sul serio diventando a loro volta genitori di andrea oggi diventato uno splendido adolescente che vive con la sua adorata mamma poco dopo aver detto addio ad anna il cantante napoletano ha intrapreso una nuova importante storia d'amore con la fan Denise Esposito la ragazza che lo ha reso papà di nuovo nonostante sia bellissima non ha alcuna intenzione di operare nel mondo dello spettacolo la tatangelo dopo aver concluso la sua relazione con livio cori che ha lasciato il classico amaro in bocca ai più oggi fa coppia fissa con un altro bellissimo si tratta del modello mattia narducci di soli 26 anni lui è davvero lanciatissimo dal punto di vista professionale e ora i due non si nascondono più le loro nuove vite sentimentali il primo a parlare della loro liason è stato il settimanale chi che tramite qualche scatto ci aveva documentato di una romantica fuga d'amore a parigi chiaramente il fatto di vedere la loro beniamina nuovamente felice e innamorata ha scaldato e non poco i cuori dei suoi estimatori che la apprezzano non solo per le sue eccellenti doti vocali ma pure per la sua ragguardevole bellezza lei ha dunque ritrovato il sorriso grazie al suo nuovo fidanzato che ha ben dieci anni meno di lei lei ha anche sofferto tantissimo ultimamente per la dipartita della sua amatissima mamma suo social oggi appare più radiosa e in forma che mai con scatti molto fashion and glamour che mettono in risalto non solo la sua incredibile avvenenza ma pure la sua fisicità da dieci e lode anna parla a ruota libera tuttavia ora la tatangelo è di nuovo nel mirino per alcune sue passate dichiarazioni rilasciate a vanity fair nel parlare della sua passata relazione con gigi si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni decisamente molto intime se all'inizio della loro storia d'amore aveva deciso di starsene bella zitta poi ha deciso di aprire il rubinetto dal momento che era profondamente stanca delle bugie litigavamo sempre più spesso eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola senza più darci al buonanotte ha svelato la cantante di sora inoltre ha pure rivelato gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno il salone era sempre pieno di gente con ciò l'artista avrebbe fatto chiaramente intendere che lei invece avrebbe preferito un clima casalingo più disteso ed intimo grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie a tutti grazie a tutti